Paola, per te questa è la prima uscita a Novara, ci hai giocato ad avversaria, hai trovato un clima sempre molto caldo, molto positivo al palazzetto. Oggi dall'accoglienza della città stai vivendo sicuramente una volta di più questo calore. Sì, è una bellissima accoglienza, mi sto trovando molto bene anche soltanto con i fan e dalla presentazione con la società. Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare con le altre mie compagne e di mantenere il titolo che Novara è riuscita a vincere l'anno scorso. Senti tu, sei giovanissima ma di fatto ormai vivi la Serie A già da qualche anno, certo l'avventura di Novara è completamente nuova. Quanto è importante per te aver potuto vivere un'estate con due delle compagne che poi troverai anche nel club? Tantissimo perché abbiamo trovato il giusto feeling, mi trovo bene con loro e so che magari in momenti di difficoltà mi potrò appoggiare come punto di riferimento. Adesso c'è l'Europeo, poi c'è la Champions League, saranno per te appuntamenti molto importanti perché ti misurerai con quella che è la massima pallavolo continentale? Sì, assolutamente, incrocio le dita, continueremo ad allenarci spingendo, dando il massimo e vediamo cosa succede.